ciao da luci oggi per la nostra scuola di uncinetto vi faccio vedere un altro bellissimo punto sempre a ventaglietti e vi faccio vedere proprio la stampa del punto che è eccola qua questa quindi questo sarà il punto che andiamo a fare insieme sapete che ho deciso di fare questa cosa della scuola di uncinetto perché non tutte sapete leggere gli schemi quindi volevo comunque agevolare tutte le persone che appunto non sanno leggere gli schemi e che però trovano veramente molto belli questi punti che si trovano in rete online insomma un po in ogni dove ma non sanno eseguirli perché trovano difficoltà ad a leggere gli schemi intanto ve lo spiego quindi vi do una spiegazione proprio di quella che è lo schema e poi lo realizzeremo insieme allora questa parte sotto è una parte di catenelle e vi dico già che il multiplo per questo punto è di 16 più 1 quindi e vi dico anche come vedere il punto adesso prendo un uncinetto molto sottile che userò da vedete per segnare ecco qua praticamente voi calcolerete il multiplo su questo ventaglio lasciando fuori la chiusura del ventaglio perché questo sarà già l'inizio del ventaglio successivo quindi fino a qui senza questa maglia basta quindi fino a qui sono 16 catenelle il più 1 è proprio questa maglia bassa che verrà calcolata già nel ventaglio successivo però per chiudere ovviamente non potremo fermare non potreste non potremo fermarci qua perché qua sarebbe 16 quindi questa catenella è il più 1 quindi questa maglia è il più 1 questa maglia è il più 1 quindi ogni volta che voi aumentate le catenelle dovete tenere presente di contarne 16 32 e quant'altro quando avete calcolato tutte le catenelle che vi servono per il vostro progetto ne aggiungete una quindi solo al termine del multiplo di 16 ne aggiungete una non è che ogni 16 ne dovete aggiungere una al termine quindi 16 più 16 più 16 più 16 il risultato più una catenella che è quella per chiudere il nostro giro dopodiché ci saranno le catenelle per alzare il nostro lavoro quello è un altro discorso quindi questi sono giri di catenelle chiuse con una maglia bassa poi avremo dei giri di archetti e maglie alte i giri di maglie alte separati da catenelle più archetti e questo simbolo questo qua che vedete è il simbolo della nocciolina ma adesso vi faccio vedere anche come eseguire la nocciolina quindi questo è proprio la spiegazione dello schema poi insieme adesso andremo a realizzarlo ecco qui fatte le mie 32 catenelle più una quindi andiamo a fare due ripetizioni del nostro disegno ora per non sbagliare io invece di fare le catenelle per fare la maglia alta aggiungo una catenella entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare una maglia bassa e due catenelle per sostituire la prima maglia alta dopodiché scusatelo indietro vado a fare una catenella di separazione salto una maglia una catenella di base nella seconda vado a fare la mia maglia bassa quindi nella prima catenella ho lavorato la maglia alta la seconda la salto nella terza vado a fare la mia maglia bassa dopo aver fatto la catenella di separazione ora andrò a fare due tre quattro cinque catenelle salto una due tre nella quarta catenella faccio la maglia bassa e vado avanti così fino al termine del giro quindi uno due tre quattro cinque catenelle nel salto tre nella quarta maglia bassa il secondo giro lo iniziamo in questo modo allora facciamo una catenella voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa nella primissima maglia in questo modo dopodiché facciamo cinque catenelle una due tre quattro cinque catenelle saltiamo il primo archettino piccolissimo e andiamo in quello da cinque e ci fermiamo con una maglia bassa dopodiché carichiamo il filo e nel prossimo archetto andiamo a fare sette maglie alte ora ci fermiamo con una maglia bassa nel prossimo archetto e quindi andiamo a fermare il nostro ventaglio cinque catenelle prossimo archetto maglia bassa cinque catenelle prossimo archetto maglia bassa di nuovo carichiamo prossimo archetto sette maglie alte di nuovo maglia bassa nel prossimo archetto cinque catenelle e ci fermiamo con una maglia bassa sulla terza catenella d'inizio giro precedente quindi per siccome sono eccole qua c'è la maglia bassa e le due catenelle quindi andiamo nella seconda delle due catenelle in questo modo ecco qua che abbiamo terminato anche il nostro secondo giro iniziamo il nostro terzo giro facendo tre catenelle a sostituire la nostra prima maglia alta voltiamo il lavoro e ne facciamo altre due andiamo nel nostro primo archetto e facciamo una maglia bassa dopodiché senza nessuna catenella carichiamo ed andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta del nostro ventaglio separato da una catenella quindi maglia alta catenella andiamo nella seconda maglia alta nella terza maglia alta catenella quarta maglia alta catenella quinta sesta sesta e settima ci agganciamo con una maglia bassa nel prossimo archetto sottostante 5 catenelle prossimo archetto maglia bassa carichiamo e facciamo la stessa cosa in quest'altro archetto scusate ventaglietto facciamo la stessa cosa su questo ventaglietto quindi facciamo maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella per tutto il nostro ventaglio quindi al termine facciamo una maglia bassa nel prossimo archetto 2 catenelle e concludiamo caricando e facendo una maglia alta sulla maglia bassa sulla maglia bassa di fine giro in questo modo così facendo abbiamo concluso anche il nostro terzo giro il nostro quarto giro inizierà in questo modo quindi facciamo una catenella e voltiamo il lavoro facendo una maglia bassa sulla primissima maglia sottostante quindi sulla maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente andiamo a fare una maglia bassa 2 catenelle ed ora andremo a lavorare delle noccioline proprio negli spazi creati dalla catenella tra una maglia alta e l'altra del nostro ventaglio qui andiamo nel primissimo spazio tra le due maglie alte carichiamo entriamo prendiamo il filo usciamo alziamo ricarichiamo entriamo entriamo in questo foro catturiamo il filo usciamo e alziamo e di nuovo lo facciamo per un'altra volta in questo modo ora carichiamo usciamo da tutti i nostri occhielli che abbiamo sull'uncinetto 2 catenelle e passiamo alla nocciolina successiva quindi di nuovo carichiamo prossimo foro vedete entriamo alziamo carichiamo entriamo catturiamo usciamo da tutto 2 catenelle di nuovo carichiamo entriamo nel prossimo archettino da uno ci entriamo una seconda volta ci entriamo una terza volta chiudiamo tutto insieme 2 catenelle passiamo alla nocciolina successiva e così per tutto il nostro ventaglietto allora faccio 5 catenelle 1 2 3 4 5 che saranno la nostra prima maglia alta e 2 catenelle di separazione volto il lavoro e vado a fare una maglia bassa tra la prima e la seconda nocciolina del ventaglio dopo di che faccio ancora 5 catenelle e vado tra la nocciolina dove c'è lo spazietto nel quale ho appena lavorato e la prossima quindi nel prossimo spazietto facciamo la maglia bassa dopo di che ancora 5 catenelle salto uno spazio che sarebbe quello centrale vado nello spazietto successivo e faccio la maglia bassa 5 catenelle prossimo spazietto maglia bassa e così vedete abbiamo fatto tutto questo ventaglio vedete abbiamo fatto praticamente si sono creati 3 archetti sul nostro ventaglio quello centrale è quello che ha uno spaziettino in più quindi risulterà leggermente più largo ora facciamo 5 catenelle saltiamo tutta questa parte centrale e andiamo di nuovo a lavorare tra la prima e la seconda nocciolina del prossimo ventaglio e facciamo una maglia bassa 5 catenelle quindi nel prossimo spazio maglia bassa 5 catenelle saltiamo uno spazio perché siamo al centro del nostro ventaglio nello spazietto successivo maglia bassa di nuovo 5 catenelle nel prossimo spazio maglia bassa ora siamo a fine giro andiamo a fare 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sulla maglia bassa di fine giro precedente quindi proprio qui andiamo a fare la nostra maglia alta in questo modo noi abbiamo ricreato il primo giro che ci consentirà di andare avanti con la nostra sequenza vedete noi qui adesso dobbiamo ripetere abbiamo fatto questo giro che è identico al primo ora andiamo a ripetere il secondo vedete poi andremo a ripetere il terzo poi andremo a ripetere il quarto e dopodiché ricominciamo per tutta l'altezza del nostro lavoro quindi sarà sempre lo stesso scusate lo stesso gli stessi quattro giri ripetuti vedete così è una sequenza questa è una sequenza noi andremo avanti per tutto tutta la nostra lavorazione ripetendo proprio questi quattro giri ora io li faccio i tre giri che mancano così da farvi vedere come verrà il lavoro dopo 8 giri di lavorazione ecco qua finito il nostro punto vedete è molto simile a quello precedente quindi del tutorial precedente questo invece risulta leggermente più fitto e più pieno diciamo quindi rimane un po' meno traforato vediamo se trovo il campioncino del lavoro precedente vi faccio vedere la differenza perché effettivamente vedete i due punti sembrano simili ecco qua però questo guardate sono fatti tutti e due con lo stesso filato questo rimane più aperto più grande e più diciamo forato ecco questo invece rimane leggermente diverso quindi un punto che rimane un po' più basso con un po' di ventaglietti e ovviamente le noccioline che riempiono molto il punto quindi io ripongo quello dell'altro tutorial e vi faccio vedere di nuovo questo devo dire che mi piace tantissimo anche questo e lo schema vedete è veramente molto molto semplice io ripeto vi sto facendo questi mini tutorial proprio per aggivolare tutte le amiche che non sanno leggere gli schemi quindi questo lo chiamerò punto ventagli e noccioline io vi do l'appuntamento al prossimo tutorial vi mando un grosso bacio vi saluto ciao ciao al prossimo tutorial da Luci ciao baci